Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In Consiglio regionale, in queste ultime sedute, uno dei temi più importanti è senz'altro stato quello dell'antifascismo, un valore su cui si fonda l'intero Statuto della Toscana. La Toscana promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. È il riferimento all'antifascismo che entrerà nello Statuto della Regione, come prevede la proposta di legge di modifica statutaria approvata dall'Aula di Palazzo del Pegaso in prima lettura. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa, all'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione, la Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello Statuto, della Carta Costituente dei Cittadini e delle Cittadine Toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Noi abbiamo convintemente lavorato sia in Commissione e chiaramente poi con un voto affavorevole in Aula, l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando con la prestazione di un emendamento, il dibattito in Aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa, quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra smisconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo, che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma l'abbiamo fatto senza esito. Si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti, come a tutti appartiene dalla radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica e chiaramente è così sancita nei testi della nostra Costituzione, ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione, per essere compresa a livello globale, andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità. L'antitotalitarismo non è soltanto antifascista o anticomunista, assume forme diverse, ma sostanzialmente quest'Aula molto probabilmente voleva operare in tutt'altra direzione. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto perché mai come oggi la lotta al totalitarismo passa soprattutto dall'aspetto culturale e l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni. Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo che ancora purtroppo emerge in questa società deve essere con forza ricacciato indietro. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire la nostra azione di recifrazione. Può essere un dato scontato ma non lo è il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà il momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che insomma quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Sicuramente una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza come già accaduto in Commissione. Questo però non ci esime dal fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in aula. Una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a un'emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani io credo che il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo avevamo chiesto il ritiro della Pidelle Statutaria per un approfondimento ulteriore in Commissione perché, ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti però certamente, ecco, oggi nel 2022 credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica anche perché, un'ultima notazione, troppo spesso la contrapposizione ideologica dei buoni contro i cattivi ha condizionato fortemente, fin troppo, anche la vita politica in qualche maniera, come dire, anche sdoganando un po' certi pregiudizi rispetto a aree politiche che oggi, come dire, si propongono invece come legittimamente interlocutori nell'ambito del panorama democratico della nostra nazione. Dibattito in Consiglio regionale, nell'Aula di Palazzo del Pegaso anche per quanto riguarda l'attività sportiva e l'incentivare proprio l'attività fisica in tutto il territorio regionale a questo proposito è stato dato l'ok ad un provvedimento legislativo. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica. Il provvedimento punta a rendere ancora più incisiva la promozione dello sport mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce di età e ai diversi ambiti di riferimento da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato. È una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica e sulla prevenzione come attraverso l'estensione di un modello che la nostra regione ha di fatto inventato ha aperto la strada, l'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori. L'obiettivo è quello di allargare la platea di allargare la platea dalla popolazione anziana alla popolazione che presenta delle fragilità legate evidentemente al tema della cronicità. L'investimento in prevenzione è un investimento che ha anche un valore collettivo. Evidentemente il benessere di una persona se è raggiunto attraverso l'attuazione di politica come questa è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte. Io credo che questo sia un piccolo passo ma un piccolo passo nella giusta direzione. È un po' limitata perché secondo il mio punto di vista avremmo dovuto andare a vedere anche quelle che sono poi dopo le necessità per poter fare l'attività fisica perché così facendo non si ha una progettualità in questo momento e bisogna anche considerare gli impianti che devono essere messi a disposizione. Per cui mi sarei aspettato di fare una discussione un pochino più lunga soprattutto in commissione. È stata molto accelerata perché in due settimane l'abbiamo avuta due volte in commissione ma sapete benissimo quelle che sono state le difficoltà di queste ultime due settimane con tanto di campagna elettorale, votazione e tutto il resto. Oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche una settimana due settimane che è passata in commissione e ce la ritroviamo immediatamente in aula. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo di molto più centrato e dare delle risposte. Questo è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica però non si parla né di impianti, non si parla di progetti. Noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione proprio perché c'è stata un'animità fin dall'inizio della discussione e riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che se non affrontate in tempo potrebbero anche diventare gravi. Parliamo anche di comunicazione sociale con un premio in Palazzo del Pegaso consegnato dal Corecom della Toscana all'Unione Italiana Cecchi di Prato per quanto riguarda uno spot in particolare realizzato con promozioni e finalità di comunicazione sociale tematiche tutte queste al centro dell'attenzione del Corecom stesso. Uno spot di 40 secondi dell'Unione Italiana Cecchi e i povedenti di Prato si è giudicato il premio La Toscana che fa bene concorso bandito dal Corecom della Toscana in collaborazione con il CESBOT per premiare la migliore campagna di comunicazione sociale promossa nel 2021 in Toscana il premio dal valore di 5.000 euro allo scopo di valorizzare il lavoro che associazioni privati svolgono per promuovere la comunicazione di alto contenuto sociale. Il Corecom ha sempre avuto grande attenzione alla comunicazione sociale ma non avevamo mai fatto nulla di particolarmente significativo che potesse valorizzare il lavoro che le associazioni, alcuni privati, enti pubblici svolgono per promuovere comunicati di alto valore sociale. E allora abbiamo pensato di istituire un premio con anche una ricompensa in denaro di 5.000 euro all'associazione che naturalmente potesse vincere questo premio e lanciato questo concorso. Sono stati oltre 40 i video che si sono candidati alla selezione e il parere della giuria a tutti i tecnici è stato unanime per il premio all'associazione dell'Unione Italiana Ciechi di Prato. Il video è nato da una chiacchierata con l'Unione di Prato grazie a un amico che si chiama Daniele Di Bella che è socio dell'Unione ma che è anche una persona con cui ho fatto tanti progetti in precedenza e lui è una persona molto ironica e è stato quello che ha un po' trascinato anche il tono generale del video. Chiacchierando però tutto insieme anche con l'Unione è venuta fuori l'idea cioè ci voleva qualcosa che potesse colpire l'immaginario e far fermare le persone quindi ci siamo subito orientati verso un qualcosa che fosse un po' bizzarro ma che nascondesse comunque dietro una riflessione. Hanno tutti lavorato in maniera professionale e gratuita per un prodotto che è stato apprezzato e noi ne siamo particolarmente felici perché l'Unione Italiana Ciechi il suo principale obiettivo è l'integrazione delle persone con disabilità visiva nella società integrazione che passa dall'istruzione alla ricerca del lavoro poi abbiamo tante iniziative anche ricreative, distensive facciamo poi pratiche pensionistiche varie attività per far sì che la persona disabile visiva sia sempre più integrata e meno discriminata per cui questo premio ripeto è per noi veramente motivo di grande gioia e soddisfazione. e con questo è davvero tutto la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui l'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana con tanti altri argomenti da analizzare grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV38 arrivederci a presto a presto Grazie.